non ho mai amato i mezzi pubblici fin da bambino una volta fatti i 14 anni ho subito comprato il motorino i motorini successivi motorini fino a 18 anni e due mesi aver preso subito la patente e aver avuto la macchina quindi io i mezzi pubblici praticamente li ho presi pochissime volte nella mia vita però non si può negare che i mezzi pubblici comunque li abbiamo presi tutti e non si può negare che da bambino da ragazzetto da 14enne da 13enne da 12enne le prime fidanzatine le prime ragazze almeno nel caso mio le ho conosciute tutte sull'autobus adesso siamo arrivati al punto in cui se prendi l'autobus a torino devi girare la testa verso il finestrino e non parlare con nessuno né che sia uomo né che sia donna né che sia conoscente né che sia un estraneo né che sia ma dove stiamo arrivando ma siamo veramente tutti diventati matti cioè ma un provvedimento simile veramente bisognava non lo so bisognava veramente rispondere con le bombe sulla strada con le bombe su su ma stiamo scherzando non puoi guardare in faccia una persona sui mezzi pubblici distanziamento verticale cioè ne abbiamo sentite di tutti i colori in questo periodo di follia ma questa le supera tutte adesso tu non puoi stare magari con la tua ragazza stesso no hai la tua ragazza sul mezzo e non la puoi guardare in faccia devi girarti all'altra parte ma qui stiamo proprio finendo alla follia più totale guardate ragazzi io non riesco a capire prima avevano in mente di distruggere la classe sociale medio alta quindi come ad esempio mi raccontavano che adesso in sardegna se non ti fai fare il certificato di sanificazione della barca su cui vuoi invitare delle persone strane alla tua famiglia non puoi portare nessuno pena delle multe salatissime almeno però prima toccavano soltanto le persone che erano secondo loro i nemici del popolo e vabbè facciano parte di un 5-6% della popolazione ma adesso si sono messi anche a distruggere la vita delle persone più non voglio dire povere ma più diciamo che fanno parte degli strati sociali più più bassi addirittura adesso non puoi sugli autobus parlare con una persona che hai di fronte ma ormai siamo proprio alla pazzia per poi un qualcosa che lo hanno detto tutti i più grandi virologi lo ha detto zangrillo lo ha detto clementi l'ha detto silvestri non c'è più nulla questo è un modo per separare la popolazione per dividerla per non farla aggregare per non farla parlare per non farla mettere d'accordo per creare quello che loro vogliono praticamente adesso stanno distruggendo tutto il tessuto sociale perché come dicevo anche in un altro video già ormai con questa paura che hanno tantissime persone della dell'influenza covid nessuno conosce più nessuno si evidenzia più nessuno nessuno ha più rapporti interpersonali con estranei adesso ancora di più adesso proprio dividi tutti proprio addirittura non puoi neanche scambiare due parole sull'autobus con un'altra persona no ragazzi vi prego guarda un tempo si diceva fermate il mondo che voglio scendere ma io adesso dico veramente tirate tirate quello che sappiamo insomma tiriamogli quello che sappiamo in testa sta gentaccia cioè ma sul serio stiamo parlando ormai veramente non c'è più limite alla follia alla pazzia di queste persone queste persone sono pericolose e ancora più pericolose saranno le persone che appoggeranno che faranno la spia che fermeranno l'autista dicendo autista guardi quelli stanno parlando tra di loro intervenga subito non lo so non lo so veramente più guarda qui ci muoviamo noi con motore italia stiamo cercando di fare di fare di fare di tutto per fermare questa deriva della follia aiutateci anche voi fate iscrivere iscrivetevi a motore italia questo partito facciamo sì che abbia tanti voti tantissimi voti perché qui non si tratta più della tassa sul suolo pubblico della tassa sulle bibite cassate qua si parla proprio della morte dei rapporti tra persone della morte dei rapporti tra tra individui cioè una cosa veramente allucinante